San Ferdinando, si allarga l'emergenza. La tendopoli affidata alla gestione della Caritas. Dopo la rimozione delle baracche fatiscenti, sorte attorno all'accampamento di San Ferdinando, che ospitava al momento circa 400 immigrati, continua a pieno ritmo il lavoro fissato in prefettura. Il commissario prefettizio Cosima Di Santi ha già disposto alcune direttive per l'accoglienza degli extracomunitari, che giornalmente aumentano di numero in vista della campagna grumaria. Tra l'altro, si fa sempre più stringente la necessità degli interventi, anche in vista di un probabile peggioramento delle condizioni meteo, data l'inclemenza della stagione invernale. Subito dopo aver assunto l'incarico, il commissario aveva emesso un apposito atto di indirizzo ai responsabili degli uffici del Comune, per l'adozione urgente di una serie di adempimenti. Tra questi, l'affidamento ad un'associazione di volontariato dell'assistenza e di vigilanza della tendopoli. A tale scopo è stata individuata la Caritas della Diocesi di Oppido Mamertina Palmi. La Caritas Diocesana, diretta dal Diacono a Lampi, ha già acquisito una grande esperienza di gestione e cura dei rapporti con gli immigrati.